All guys, welcome here again! We've got a special dedication today, ragazzi, ben tornati di nuovo nel mio canale Dedica Speciale. Guys, yeah, here my bass, here my microphone. This one is dedicated to Federica. Federica Zebelloni. Federica, ciao! Questa è dedicata a te, me l'hai suggerita a te, l'ho messa nel poll, nel sondaggio, non è che abbia fatto il botto, non è conosciutissima, ma comunque ha ricevuto dei voti e quindi, come ogni promessa, è un debito, reagisco. Guys, can't wait to react to Hey Long, Alphardir Ahiti. Oh man, Alphardir Ahiti. I don't know the pronunciation. Please help me and tell me something about this band. I don't know nothing about. This is a live performance, live at Aurora, April 17, 2019. And I'm really ready to react. Ragazzi, live, questa band, se la conoscete già, ditemi qualcosa. Federica, pronta? Si va! Oh, è lunga, 7.33, non perdiamo tempo. Guys, go! Oh, come on! What's that? Waltz sound? Is it San Petersburgo? Russia? Oh man! Oh man! Oh man! Oh ragazzi, buon drumming, suono un tipo di esoterico Ritual Oh my lord Oh ragazzi, questo utilizzo della voce, come in The Who, la band mongoliana Ragazzi, questo suono gutturale della voce, cupo Oh my lord Oh ragazzi, questo è un grande mantra Ragazzi, è come una specie di mantra Che se non la stoppi un attimo ti porta dentro Oh ragazzi, buon ruolo Oh ragazzi, buon ruolo Oh ragazzi, buon ruolo Oh ma Oh Oh my lord, come on! Oh my lord, please! Where did this band come from? Oh man! And it is really cool also how they dress and oh man! And it sounds a bit like an orgastic ritual. Oh yeah, I really imagine this song, maybe I'm wrong guys. Terrible wrong, terribly wrong. And so please correct me and tell me something in your comments. But it sounds also like a ritual, spiritual ritual, but I can imagine an orgastic situation inside. Oh man! The losing of conscience during it. Guys, ho detto, sembra un qualcosa di rituale che sì, ok, dovrebbe avere un'evocazione spirituale, ma me la immagino proprio in un rituale orgiastico, no? Una roba del genere, così, capito? Cioè me la immagino proprio come sottofondo, perdita di coscienza, perdita dei freni, perdita del controllo. You lose every control of yourself, any break with this one. Come on! Oh! con due mani questa volta, ragazzi, e magari sono un perverso e un ucciso, ma posso sentire il sexual vibes inside this one, ragazzi, dicevo ora a battere questo tamburo con due braccia sempre più forte, ho detto, potresti prendermi per un perverso, un pervertito, un pazzo, insano, ma ci sento sexual vibes sotto, cioè una connessione quasi sessuale con questa ritmica cadenzata. Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh, what a crescendo, ragazzi, che crescendo, che crescendo l'intensità! Oh guys, and it looks like, it sounds like also a battle hymn, like druids, druids, yeah, druids people. and how much weird instruments, the one with little horns, with thin horns, this weird instrument Oh man, ragazzi, sembra quasi anche una specie di vino di battaglia druido, delle popolazioni barbare, molto ancestrale, e pochi strumenti sono particolari, quella con le corna fine, c'è uno strumento che non riesco a decifrare. Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Federica, che cavolini mi hai mandato! Molto particolare! Come on! Oh! Oh, this is weird as fuck! Federica, senti cosa ti dedico? con un bel... Oh my lord! Guys, this is a dedication to Federica, but to all Halong lovers. Oh, this is so weird, so peculiar, so different. And I told you everything during the reaction, because I was not able to leave inside myself everything, my emotions, my feelings, so I expressed it during the reaction. Ragazzi, è stato particolarissimo, la cosa strana, particolare. questi rituali così, questi suoni gutturali, oggi stanno tornando fuori, vedo, in diverse band, anche gli Who, quella band mongola che ci regisco ora, hanno un nome un po' impegnativo, eh, perché gli Who scritti in un'altra maniera sono una celeberrima band rock. Comunque, vi ho detto tutto durante la reazione, non sono riuscito ad arrivare in fondo a dirvelo, quindi avete sentito tutto quello che penso. Particolare, strano, e ditemi tutto quanto su questa band. Guys, tell me everything you know about this band, and see you next time with other reactions. Touch the window if you wanna dig more my channel. See you next time, guys! Ciao Federica, grazie! Ciao Bella!